Diego Giordano non è morto. Diego Giordano non è morto. Arriva la smentita sulla presunta morte di uno dei personaggi più amata e seguiti dalla fiction partenopea Un posto al sole. Il sogno di Raffaele Giordano, e la presunta morte di Diego qualche giorno fa sul web era circolata, potremmo definirla, una fake news. Secondo le indiscrezioni tutte la vicende che hanno come protagonista Giordano Junior all'interno della fiction non sarebbe altro che frutto di un sogno di Raffaele in seguito alla morte del figlio. Ma in realtà non è. Così. La smentita della morte di Diego Giordano da poche ore è arrivata la smentita. Il personaggio è vivo e v-e-g-e-t-o-o e la trama in questione non è s-i-s-t-e aperte virgolette così scrive Tvsoap. Intanto sono tante le novità riguardo a Diego Giordano, e la sua amata Beatrice. Anticipazioni sulla storia d'amore tra Diego e Beatrice La relazione tra Diego e Beatrice col passare delle puntate, diventerà sempre più importante e i due, negli episodi delle prossima settimana, passeranno la notte insieme. La loro storia va avanti senza che i due si conoscano a fondo, ma le puntate dell'11, e del 12 settembre saranno rivelatrici per Beatrice. La ragazza farà una scoperta causale sul conto del figlio di Raffaele, e poi assisterà ad un incontro fortuito che le farà vedere il ragazzo da un altro punto di vista. .